Per i prossimi 5 giorni sarò impegnata in un workshop sul lavoro dell'attore. È tenuto da un casting director originariamente diplomato come regista teatrale, ha una lunga esperienza in questo campo, è stato assistente di Streller, ha curato tantissime regie teatrali. E adesso tiene dei corsi di sopravvivenza per gli attori, in cui formalmente gli insegna a prepararsi per un provino su parte, ma in realtà si tratta di un vero e proprio bignami di sopravvivenza per l'attore, formulato da un insider. Ognuno dei partecipanti si cimenterà in tre scene davanti alla telecamera. Queste tre scene vi sono già arrivate e a differenza dei veri provini su parte, non c'è scritto assolutamente niente, quindi io adesso studierò la memoria di queste scene, facendomi anche involontariamente un'idea su queste persone. E poi, quando parteciperò al seminario, scoprirò veramente di chi si tratta, perché il lavoro di interpretazione lo faremo insieme durante il workshop. Quindi sono molto curiosa di aprire queste scene e di immaginare di che cosa si tratta. Scena A. Attrice. Studiare della Croix... Ma dai, ma della Croix Dupont... 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 Dupo... Dupo A. Ma lo fai apposta? Il francese? A me? No, chiaramente sono in italiano. I nomi dei personaggi però... Cioè, se li ha cambiati lui... Eh... Beh... Beh... Si dà per vinta. E allora si armi, mia cara. Si armi... Ok. Sono un maschio... Ok. Sono un maschio e una femmina. Possiamo chiamarli lui e lei? Sì, ma... Dove... Trovare le armi adatte? C'è anche la punteggiatura che non è indifferente. Lui ha detto che l'ha già corretta. Perché la punteggiatura che c'è nelle scene di solito, è una punteggiatura grammaticale. Non è la vera... Cioè, c'è una differenza fra... Va bene, parleremo. Comunque... Lui... Ma è lei stessa, nella sua volontà. Lei... Non ci riesco assolutamente. Lui... Invece di bere, di rovinarsi il fegato, usa il suo tempo libero, lo faccia fruttare. Non si lascia andare alla deriva. Lei... Cioè, che cosa dovrei fare? Lui... Visiti musei, legga le viste letterarie, vada alle conferenze, si distragga... Distragga... Si distragga dall'angoscia. E il quattro settimane sarà una donna nuova. Ta ta ta... Beh, certo, mi farebbe bene, mi farebbe bene il mio spirito. Vede? Lo metto anche lei. Non sprechi i soldi in bevande... Soldi, soldi, su. Ah! In bevande... In bevande alcoli... In bevande... In bevande alcoliche. Vado a teatro! Si aggiorni! Ha ragione, lei ha ragione. Io le prometto di cambiare. No, non a me. Lo prometto a se stessa, prima di tutto. Io non so perché, ma quando leggo le cose la prima volta, è sempre una telenovela messicana. Una di quelle cose... No! Lo prometto a se stessa! Vabbè, ce n'ha due. No, cosa mi immagino? Perché poi, questo è il punto, no? Ce n'ha uno. Che cosa mi immagino? Che cosa mi immagino della scena uno. Ma ci sono questi due... Francesi. Lei è depressa. Si danno del lei. Quindi, non c'è un rapporto di... Non sono amici. Cioè, o si sono... Che ne so... Conosciuti in un club letterario. No, perché... No! Perché lui gli dice di frequentarli. Quindi, non si sono conosciuti in un club letterario. Comunque, lei beve. Al bar! Si sono conosciuti al bar! E in quattro settimane sarà una donna nuova. Perché quattro settimane? Mi farebbe bene... Vada, teatro si aggiorni. Come prima impressione può bastare. Ci penserò in questi giorni. Grazie di essere rimasti con me! Iscrivetevi alla pagina Facebook. Ciao! Ciao! Ciao!